pace carissimi dio vi benedica oggi primo luglio noi con l'aiuto del signore vogliamo continuare le nostre meditazioni sul salmo 23 stiamo leggendo e meditando il verso 4 che recita quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcun male perché tu sei con me il tuo bastone la tua verga mi danno sicurezza abbiamo visto quindi come lo scenario che viene presentato da salmista cambia perché dai pascoli verdeggianti dalle acque calme ci ritroviamo improvvisamente nell'ipotesi di poter essere nella valle dell'ombra della morte una valle che ha un nome che può incutere paura perché appunto la valle dell'ombra della morte ed è interessante notare che in questa valle il signore è quello che vuole continuare a dare pace in altre parole possiamo realizzare da questo verso la grande fiducia che davide aveva riposto in dio e questo lo deduciamo dal fatto che il re era certo del fatto che anche in mezzo alle prove che lo avrebbero potuto attendere nella valle il signore avrebbe continuato a provvedere pace al suo cuore e proprio per questo guarda guardando al suo futuro con serenità e gli dice quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcun male ora la sua affermazione non è tipo non avrò paura infatti ci sono momenti in cui sarebbe del tutto innaturale non avere paura e gli dice qualcosa di diverso ma di altrettanto bello importante e cioè io non temerei alcun male e quindi davide che pone l'accento non sulla incapacità del male di incutere timore quando ci si trova nella valle ma sul fatto che non si ha timore perché dio è presente anche nella valle dell'ombra della morte forse può sembrare triste che questo bel salmo sia rovinato da un riferimento alla valle dell'ombra della morte però esattamente quello che è accaduto all'opera perfetta della creazione infatti nel reso conto che ce ne fa il signore attraverso la bibbia dalla genesi all'apocalisse scorgiamo in modo continuo la presenza del peccato e della sua conseguenza che è la morte Cristo infatti è stato immolato sulla croce ha dato se stesso per i nostri peccati proprio per sottrarci al presente secolo malvagio galati 1 4 sappiamo che il male purtroppo è ovunque intorno a noi e che il nostro combattimento come ci ricorda opportunamente l'apostolo paolo nei fesini 6 12 non è contro carne e sangue ma contro i principati contro le potenze contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti tutti coloro che si incamminano in questa valle hanno il privilegio di avere un prezioso compagno che è il signore ed è un prezioso compagno perché lui ci ha preceduto e ci ha spianato quindi la strada lasciandoci un esempio è un esempio perfetto un compagno che è morto ma è risorto è asceso al cielo siede alla destra di dio e intercede per i membri della sua chiesa chiedendo al padre non ti prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno da questi versi del salmo 23 dunque impariamo due cose molto importanti la prima è che non possiamo evitare la valle e nella sua solitudine la seconda è che per quanto difficile oscura possa essere la valle e per quanto ci possa indurre a concepire pensieri simili a quelli di giobbe possiamo però continuare ad aggrapparci alla fede nella parola di dio possiamo inoltre riposare sull'amore di cristo sicuri che lui spanderà nel nostro cuore attraverso lo spirito santo una forza e una consolazione tale da poter dire io non temerò alcun male quindi su cosa si poggia la fiducia di davide nella valle dell'ombra della morte di sicuro sulla realtà della presenza del buon pastore che che accanto a lui io non temerei alcun male infatti dice davide perché tu sei con me e benché stia parlando di una valle solitaria davide non è solo il patto della grazia rivina comprende anche questo e cioè che nei momenti più bui della nostra vita il signore continuerà ad avvicinarsi a noi a dirci non temere perché io ti ho riscattato di 6 a 43 ti ho chiamato per nome tu sei mio e quando dovrai attraversare le acque io sarò con te quando attraverserà i fiumi essi non ti sommergeranno quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà perché io sono il signore il tuo dio il santo di israele il tuo salvatore non c'è nulla quindi che possa garantirci una pace per il presente ed una fiducia per il futuro pari a quella che viene dalla fede nelle parole che dio dice e cioè io sarò con te e paolo come tutti i santi di dio lo aveva sperimentato tant'è che nella seconda epistola timotio disse scrisse scusate nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco ma gloria dio aggiunge il signore però mi ha assistito e mi ha reso forte i suoi compagni anche i più fedeli non potevano essere lì con lui ma davide in quella valle dell'ombra scusate paolo in quella valle dell'ombra della morte non era solo perché il signore era al suo fianco domani continueremo a parlare di questo aspetto o anzi dopo domani ma che oggi ognuno di noi possa riflettere sulla realtà della preziosa presenza di dio anche quando attraversando la valle dell'ombra della morte ci troviamo in momenti difficili nella nostra vita non siamo soli cari dio non ci abbandonerà mai se noi confidiamo in lui pace del signore dio ci benedica insieme